Sagato 29 aprile a Casale Cortecerro torna nell'ambito dei festeggiamenti dedicati a San Giorgio la sfilata del grande drago processionale. L'invento è importante e significativo perché questa tradizione torna in questo 2023 dopo uno stop di circa 20 anni. Qui con noi abbiamo Michele Massimo, una rappresentanza dei volontari che si sono occupati di portare a nuova vita questo drago. Guarda tutto il video, scarica l'app News24, apri TV e cercalo in programmi.